Successo interno di misura per il leccertoso di Gianluca Tuzzi nella quattordicesima giornata e prima di ritorno del girone B, campionato Under 15 Elite. Il gol di Sadiki dopo pochi secondi consente ai padroni di casa di battere per 1-0 il Campus Eur. Gol decisivo che arriva proprio in apertura, splendida conclusione di Sadiki che si insacca sotto l'incrocio dei pali, 1-0 e Certosa in vantaggio. Padroni di casa pericolosi, ancora poco dopo, stavolta con Ciaccio, sinistro deviato in corner. All'undicesimo si va a vedere il Campus Eur con Marcellini che sfiora il palo con il destro, mentre al 27esimo Grassi trova Di Giosia in uscita. Ripresa completamente ad appannaggio degli ospiti pericolosi al quinto su punizione con Galasso. Mentre al 17esimo clamorosa traversa da parte di Roscino con un buon tiro a giro di destro, conclusione però che si infrange sul montante. Al 20esimo su azione d'angolo è ancora Roscino il più pericoloso dei suoi, mentre al 24esimo prova su punizione con la D'Angelo di Giosia devia in corner. Finale con doppio occasione, una per parte, Roscino a tu per tu nel recupero trova ancora il portiere di casa sulla sua strada. Mentre nel contropiede successivo Certosa vicinissima al raddoppio in aperto contropiede. Mentre nel contropiede successivo di Roscino con la D'Angelo di Giorgione di Giorgione di Giorgione di Giorgione di Giorgione,